Ho inviato questo video di TikTok di Giacomo Attanà in cui sono tirato in causa riguardo a questa bagarre e che dire, nelle prossime stories magari cerco di dirvi la mia perché io non ne so niente veramente Allora raga, veramente ho visto e rivisto più volte TikTok con questa intervista a Leonardo Barbieri come si chiama io non so chi sia questa persona, non l'ho mai vista l'ho visto solo nei meme su TikTok col filtro con le stelline, le sue creme ma basta Quindi risposta al TikTok fatto da Giacomo Attanà che non conosco ma saluto posso confermargli che Leonardo, appunto, Barbieri non l'ho mai visto, non ho mai partecipato a un mio video non ho mai fatto un video con lui mai visto Che poi raga, questo far vedere appositamente quanto si spende nel caso di questo ragazzo Leonardo su TikTok quando va a comprare le creme che inquadra il prezzo ovviamente prezzi spropositati il sentirsi quindi validati personalmente da quanto quanto uno spende o da quanto costano le cose che si comprano cioè è una cosa che non ha senso soprattutto nel 2021 ora mi direte pure vabbè tu facevi video di quanto sei il tuo outfit certo, però a ogni video poi c'era un vincitore ed era sempre la persona meglio vestita o con più stile e non corrispondeva praticamente mai con la persona che aveva speso di più per comprare proprio il probabilimento poiché le due cose il 90% delle volte non vanno mai a braccetto dunque secondo me o uno si sente rappresentato da quello che compra e che indossa e anche magari è anche un cultore ovviamente è zompata la storia di Instagram mentre finino il discorso appunto o uno è un cultore magari lavora anche in uno di questi campi del design, del prodotto, della moda ma altrimenti appunto fare sfoggio in continuazione dei prezzi, dei costi, delle cose che si comprano diventa veramente una cosa vacua e boh senza senso spesso mi chiedete nei video degli unboxing che faccio eh tipo o nelle stories eh perché non scrivi quanto costa? boh perché secondo me non è non lo trovo giusto e anzi alla fine dico come si chiama il prodotto poi uno basta che va su Google cercando il nome del prodotto e vede quanto costa e lo può acquistare grazie